Un grandissimo show sul campo centrale di Wimbledon tra Yannick Sinner e Matteo Berrettini che hanno regalato spettacolo nel derby azzurro possiamo dire al secondo turno. Una sfida con grandi scambi e colpi di scena con il tenista romano che è riuscito a mettere in difficoltà l'alto attesino numero uno del mondo portandolo anche ad un momento particolare nell'ultimo set del match. Nel decimo game del quarto set sul punteggio di 5-4 per Sinner Berrettini ha tenuto il servizio portando avanti il match. Un game dominato dal tenista romano che non concede neanche un punto all'alto attesino. Un grande servizio da parte dei Berrettini, grandi colpi specialmente sul primo punto dove è riuscito a beffare Sinner dopo un lungo scambio. Al termine di quest'ultimo il numero uno al mondo vive un momento particolare di sconforto e alla messa a segno del punto di Berrettini lancia la racchetta dall'altra parte del campo disperato. Disperato